Musica Stati Uniti, Canada e Australia lo usano già da anni, in Italia invece è ancora una novità. Il Cadaver Lab fa tappa per la prima volta a Bari offrendo l'opportunità a studenti specializzanti e medici ortopedici di poter lavorare su parti anatomiche in modo da approfondire tecniche di chirurgia atroscopica ma anche di sperimentare nuove tecniche. In Italia a causa di normative differenti rispetto a quelle degli altri paesi, gli studenti non hanno l'opportunità di esercitarsi sui cadaveri ma possono farlo su particolari manichini o in sala operatoria al fianco dei medici ortopedici. Il progetto organizzato dal professor Biagio Moretti, direttore dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia del Policlinico di Bari, con il sostegno di Artrex, ha permesso dunque di poter associare sessioni teoriche e sessioni pratiche relativamente a tre parti del corpo, il ginocchio, la spalla e il piede. Anche a Bari arriva il Cadaver Lab, di cosa si tratta? Si tratta di una unità mobile che lavora e gira per tutta Europa in cui ospitiamo preparati anatomici da donatori di altre nazionalità su cui si possono provare nuove tecniche, si può migliorare le proprie tecniche e si possono anche scoprire cose nuove da poter poi passare ai propri colleghi. Quali sono quindi nello specifico gli obiettivi e in che modo può aiutare questo Cadaver Lab i medici e infermieri a migliorare le proprie competenze? I Cadaver Lab partiamo dal presupposto che esistono da tutte le parti. La normativa italiana è l'unica, diciamo, un poco indietro in questo senso. Nelle altre nazionalità gli studenti in medicina vedono ciò che studiano sui cadaveri, gli specializzanti provano ciò che studiano sui cadaveri e i medici specialisti affinano le loro tecniche sui cadaveri. in Italia questa cosa non è mai potuta accadere fino a 5-6 anni fa quando si è aperto un centro che si chiama ICLO ad Arezzo e ora ha aperto anche a Verona in cui hanno trovato anche il caviglio legislativo per poter cominciare a farlo anche in Italia. E quindi cosa succede ora? Tutti i medici italiani, non solo ortopedici, anche di altre branche, si possono appoggiare in queste strutture che però rimangono uniche. Questa volta, ed è la prima in Italia che succede, noi abbiamo tramite l'ICLO, siamo riusciti ad avere questo camion che gira tutta Europa grazie all'aiuto della ditta Artrex, che è una ditta che si occupa di artroscopia e che fondamentalmente ospita i preparati anatromici dell'ICLO e quindi sul camion possiamo darci da fare, noi gli studenti e anche i miei colleghi. Che tipo di risposta c'è stata da parte degli studenti? Per gli studenti è stata una cosa grandiosa, normalmente gli specializzanti di ortopedia mettono da parte soldi per poter andare a fare cadaver lab fuori almeno una volta all'anno e quindi per poter cominciare ad avere un po' di manualità. All'interno delle nostre sale operatorie, ovviamente con noi come tutor, loro normalmente lavorano, facciamo assolutamente lì dove è possibile aiutarci ma mai in prima persona hanno la possibilità anche di prendere delle decisioni rispetto alle procedure chirurgiche che devono essere fatte. Quindi per loro è stata una grande cosa, tutti gli specializzanti in ortopedia sono accorsi in gran numero, hanno studiato perché c'è anche all'interno una parte teorica quindi hanno presentato casi, hanno presentato numeri e quindi facevano da preambolo alla parte pratica. Oltre agli specializzanti però anche altri medici hanno potuto accedere? È stata una base in questi giorni per tanti medici chirurghi ortopedici di Puglia e Basilicata che sul camion hanno potuto provare nuove tecniche che non erano ancora state loro presentate che quindi da molto probabilmente in un futuro prossimo cominceranno ad utilizzare anche nei loro ospedali periferici. Solitamente in che modo invece gli studenti e gli specializzanti fanno pratica? Esistono dei manichini, dei manichini che hanno delle caratteristiche molto simili a quelle umane su cui si può fare pratica. Esistono i video, esistono le real life surgery si chiamano, cioè quando si rimonta un intervento filmato completamente si rimonta solo il pezzo che ci interessa per poterci studiare. Esistono gli affiancamenti nelle sale operatorie, molto spesso oltre che da noi è normale perché ci aiutano girano l'Italia in centri super specialistici per altre procedure. Sono ospitati al fianco dei chirurghi più grandi per vedere da vicino le tecniche. In che modo vengono scelte queste parti anatomiche? All'estero funziona in questa maniera, così come da noi possiamo donare gli organi, all'estero si possono donare anche i propri corpi. In più le persone che vengono trovate senza vita e non hanno un nome, non riescono a trovare un'identità, rientrano in questi programmi scientifici. È una cosa molto all'avanguardia, molto probabilmente è difficile in alcuni casi da capire, ma io penso che poco alla volta è un segno di civiltà, arriveremo anche noi ovviamente, perché penso che sia una cosa importantissima per poter lavorare per i nostri malati, per avere un futuro migliore anche per i nostri malati, senza creare dei danni nella fase di apprendimento. Qual è il tipo di attività che si svolge qui all'interno di questo camioncino? È un'attività fondamentalmente scientifica. Le persone e i medici che lavorano intorno a questo camion svolgono tutta la giornata, sia dalla parte teorica, quindi esistono dei veri e propri device per poter parlare dei vari argomenti, e sia una parte pratica che poi si fa sui preparati anatomici. In questa settimana ci sono venuti in aiuto persone un po' da tutta Italia, esperti delle varie discipline. Abbiamo fatto per i primi due giorni il ginocchio, poi la spalla, e in questi ultimi due giorni faremo caviglia e piede. Fondamentalmente diciamo che i ragazzi possono lavorare sui preparati anatomici con tecniche artroscopiche che normalmente magari in sala operatoria non sono abituati a fare, magari vedono solamente dai loro senior. Mentre i senior possono provare nuove tecniche e nuove tipologie di fissazioni, di strumentari, proprio qui sui preparati anatomici. Evento bellissimo soprattutto per gli specializzanti e per chi deve imparare. Avere la fortuna di avere a disposizione dei pezzi anatomici su cui fare pratica prima di arrivare sul paziente, credo che sia la cosa più bella in assoluto che si possa avere. Forse in Italia siamo un po' indietro, visto che paesi come Francia, Germania, Spagna e tutto il blocco dell'Est hanno già questa possibilità. Anche come semplice esercitazione anatomica sulle vie di accesso per vedere e per discriminare le strutture nobili, quali vasi e nervi che sono fondamentali nella preparazione di un chirurgo per l'aggressione di una frattura o di una patologia cronica come può essere quella dell'artrosi. Nella prima giornata abbiamo fatto il ginocchio, ginocchio sia artroscopico che open, abbiamo fatto le vie di accesso artroscopiche, abbiamo visto un pochettino come si fanno le ricostruzioni di crociati e di menischi, abbiamo fatto le vie open per vedere l'aggressione per la protesi di ginocchio, per le fratture dei piatti tibiali, per le fratture dei condili. Poi siamo passati alla spalla, anche qui artroscopica e open per l'instabilità, per la traumatologia, per le fratture, per la protesica. Chiudiamo con la caviglia, piede e caviglia in cui vedremo sia l'artroscopia, ancora un approccio di nicchia a questo tipo di problematica dell'artropatia della caviglia localizzata soprattutto a livello stragalico e nella chirurgia open con la protesica di caviglia e con le placche per la traumatologia. Per quale motivo sono stati scelti proprio questi argomenti? Sono gli argomenti più diffusi. Credo che la base della preparazione di un chirurgo ortopedico debba prevedere la chirurgia del ginocchio, la chirurgia della spalla e la chirurgia della caviglia. Tra l'altro sono le tre articolazioni che si prestano meglio all'aggressione artroscopica e all'aggressione open. Quindi un chirurgo si può preparare sia sulla parte artroscopica che sulla parte aperta, cosa che fino a questo momento era difficile da fare perché c'era chi si dedicava solamente all'artroscopia e chi si dedicava solamente alla chirurgia aperta.